ciao ragazzi è un momento emozionantissimo vi faccio vedere perché allora guardate che meraviglia e io mi dite beh bello ma abbiamo già fatto vedere c'è un altro qua in diretta è un gemello bellissimo bellissimo guardate che roba questi sono da museo è un momento poi ci alziamo si ci alziamo venite guardate che bello siete pronti? ragazzi che emozioni che emozioni sono emozionato io che li ho già visti aiuta aiuta allora guardate che buono ecco ci stiamo avvicinando li li abbiamo già raccolti prima ora vi devo far vedere perché merita guardate che roba guardate questo questo è appena raccolti avete idea di questo cos'è? guardate che meraviglia mamma mia guardate aiuto aiuto ragazzi questi li portiamo tutti gli aggettivi lo so io tutta roba da museo li portiamo all'uvar questi però è questo qua dove lo portiamo? questo decidete voi invece questo allora aspetta vediamo bene questo questo ragazzi decidete voi il museo sempre un fungo da museo però dove quando perché come lo decidete voi aiuto e voi dite è finito? no 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 ce n'è ancora non saranno così grossi? vediamo guardate allora qua guardate peccato che non c'è tanta luce ancora ecco qua guardate è finito? no 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 ce n'è un altro qua aiuto ragazzi cosa dire? cosa dire? che emozione che fortuna che fortuna che fortuna che fortuna aiuto aiuto non ho parole allora ragazzi guardate qua qua un momento mamma mia che emozione che emozione guardate 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 ancora il mio filo è piccato perché c'è poca luce guardate comunque guardate 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 che meraviglia l'oggettivo ce l'ho io stavolta è un'opera d'arte perfetta guardiamo il gemellino eccolo qua anche lui stessa razza perfezione allora guardate qua mirtillo il mirtillo non lo faccio guardate guardate uno due tre ecco gli altri guardate guardate direi che sono delle opere d'arte complimenti al pittore che emozione che emozione che fortuna vediamo un po' ragazzi vediamo quell'oggettino qua quanto è bello quanto è bello quanto è bello uh mamma mia che ragazzi siamo alle solite ci sono quei gambi meravigliosi madonna che meraviglia ragazzi spettacolo spettacolo giac giac ragazzi guardate 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 il nuovo porcino a palla il nuovo porcino a palla guardate guardate qua mamma mia ragazzo ragazzo che roba che roba cia cia guardate che meraviglia allora uno due che bello guardate questo guardate questo guardate il colore mamma che colore è bello bello vedete che c'è nell'altro questo e questo e questo spostiamo tutto lo io guardate quanti 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 percini che roba che roba che roba questo che roba ciao 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 andiamo qua ragazzi guardate qua che meraviglia dov'è quello grosso? a sinistra ah eccolo qua guardatelo sono bellissimi questi tipi li copriamo sono troppo belli li facciamo crescere ancora li copriamo ancora con le pomme vediamo qua ragazzi ragazzo mio cosa c'è qua cosa c'è cosa c'è c'è una palla oggi porcini a palla guardate che bombolotto questo piccolo lo lasciamo questo lo prendiamo vieni piccino allora ragazzi pronti guardate uno due tre proviamo mamma mia come sei bello subito ma come sei bello questo è vai sei bellissimo sei bellissimo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vediamo questo madonna vieni qua vieni qua vieni qua guardate che bel momento uno due tre quattro un altro ancora più bene poi ci spostiamo sopra guardate bene guardate che meraviglia guardate che meraviglia passa la stanchezza quando vedi queste cose passa la stanchezza quando vedi queste cose passa la stanchezza due uuuu questo ragazzi ha un gambone che non ha un farino non si non si non si vieni qua vieni qua andate voglio guardare vediamo qua che male vediamo qua questo piccolo che fortuna che fortuna pedro dov'è il porcino amore pedro pedro il porcino dov'è il porcino ma bravo ma pedro ma sei bravissimo stella ma pedro pedro ragazzi è fantastico mio cammino pedro dov'è il porcino amore ma che bravo oh con la zampina sta fermo con la zampina va bene così li devi solo trovare vieni qua guardiamo come è il porcino oh che bel mio petto eh qui c'è un altro bello però è piccolo lasciamo bravo pedro ma sei stato bravissimo vediamo come è il porcino sta buono sta buono vediamo come è il porcino è bello è bello sì pedro facciamo vedere cosa mi ha trovato guarda che bel burottino guarda che bel burottino è pieno bravo e qua cosa c'è uno più grande bravo e lì c'è un altro adesso li raccogliamo bravo allora facciamo questo 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 è peccato sembra molto bello sì sì un porcino è bello un porcino è bello bravo pedro facciamo vedere cosa abbiamo trovato facciamo vedere che bel burottino è bello mamma mia pedro ma che gambole un porcino è bello un porcino è bello si è bello guarda pedro bellissimo guarda come è bello sta ferma sta ferma c'è un blocco la feo brava c'è una persona cia 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 vediamo un po' c'è una persona vieni ciccio mamma mia come sei duro questo lo lasciamo qua non vieni via ti lascio fare basta